E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e questo è il G.M.Scape di Titanic E siamo qui prontissimi a finire la nostra fuga dal Titanic Finalmente giocherò io, dato che Stef ha dimostrato di non essere molto bravo in questo tipo di giochi, giusto? Ti sto lasciando giocare per pietà Ma non è vero Per farti felice una volta Dai, devi ammettere per una volta che ti ho dato dei consigli utilissimi E che senza di me probabilmente saresti bloccato a livello 2 Forse No, è così Avrei già cercato un video su YouTube che parla meno di te ma che fa vedere le stesse identiche cose Ma io sono simpaticissima Allora, no, non sei simpaticca Cosa devi fare con questi bei vestiti? Sicuramente non è la più pallida Prova ad abbinare Io butto tutto in terra Ok Guarda, butto tutto in terra Ok, sì E facciamo così Mi piace, mi sembra E adesso c'è una finestra Non è che devi fare la fune di fuga dalla finestra? Eh, ma dai, ma questo c'è Non stiamo scappando da un grattaccello Cosa fuggi? Mare? Nell'oceano? Ma che senso ha? Oh, io me la son tentata Sto cercando di darti qualche consiglio Allora Apprezza Aspetta, ho trovato qualcosa Un diamante Spacco il vetro Ok Con il diamante No Sì Lo sto graffiando, ok Appunto Quindi vuol dire Aspetta Prova Dovevi fare un cerchio Ecco perché di solito gioco io Questa è la serietà di chi dovrebbe scappare dal Titanic Abbiamo pagato il gioco Quanto meno non ci devi rompere le scatole, ok? Non devi toccare il ghiaccio o quantomeno spaccarlo e poi ci sali Sì, lo devo... Non lo so perché abbiamo buttato in terra i vestiti Veloce, veloce, veloce Se passano tutti quei clicchini Cadi Quali clicchini? Vedi che scompaiono le tacchette dalla presa della mano Ah, ok, 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 ok Non me ne ero accorta Grazie per avermi avvisato, mio prode Sono il tuo consigliere Aiutante Sì, 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 sì Ok, meno male Allora andiamo qua Dai, è così fatto? Non ci posso andare qui sopra Ed è caduta Eh sì, non ci posso andare È caduta È caduta Come lo posso raggiungere? Eh, forse devi provare ad aprire quella specie di squarcio Vacci E poi prova a toccarlo lì Niente Ah sì, 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 ottimo, ottimo Non l'avevo vista Ottima Questa per i rinchi Però aspetta Ok 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 Vai Ok Perfetto Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Allora, mi sa che Devi schivare Uh Come fa? Aspetta, come? Uh, mi è piaciuto Adesso è bravissima Ascolta Che riflessi Ho bisogno Allora, tu dalla nave Se sta affondando Prendi la sciaruppa e te ne vai Ok Che cosa vuol dire che devo schivare cose che cavo? Arrampicarti Forse stiamo nel momento in cui si sta, capito Facendo così Ma infatti io non so cosa stiamo facendo E come li schivo? Aiutami Sinistra-destra Oppure li tocchi? Forza, forza Più veloce Più veloce con questi click Dai, attenta Che ti stanno per toccare Attenta Non lo capisco più nulla Attenta per Eniki Aiutami Adesso sbaglia Adesso sbaglia Adesso vuoi Sinistro-sinistro E basta Eccola Mi ha distratto È colpatuto Io non gli so fatti i giochi Perché ho i riflessi di umbradi Lei ha detto Quindi non lo posso Sono più brava a scappare Sì, ma negli enigmi Non in queste diavolerie Cioè, che cos'è questa cosa? Non avevi specificato E poi non sono diavolerie Sì, sono diavolerie Stai sopravvivendo a degli oggetti Che ti arrivano addosso Mentre il Titanic crolla Ma non funziona così Non funziona Non l'avete visto il film? Non funziona così È certo che funziona così Cadono gli oggetti E vanno schivati No, il film è diverso Ok Fatto Brava Grazie Allora, adesso Aspetta Uh, finalmente un enigma Allora, praticamente Dobbiamo combinare tutto Ok Per rifare le sbarre Mi è piaciuto No, secondo me Dobbiamo aprirle, scusami Secondo me no Sì, dobbiamo fare un passaggio Ok Va bene, va bene Vediamo, vediamo Prova a rifarle, dai Vediamo che è successo Secondo me però no Ti vedo in difficoltà No, no, ci sono, ci sono Guarda Ti vedo in difficoltà lo stesso Lì Questa di così Esatto E poi Poi ce n'è una in alto Oddio, alcune le ho prese però Lì tutte in alto, la vedi? Questa? Sì Così E questa Esatto E quindi mi mancano quelle da aggiungere Quella da aggiungere Che aggiungi lì Tipo qua Esatto E invece questa qui per forza Esattamente Ok Ah, ok Ma scusami Ah Che cosa mi fai? Aggiustare il cancello Per poi aprirlo con un lucchetto Cioè l'avrei sfondato Ma tutta la vita ci sei ripassata Guarda Non una, ma cinque volte No, aspetta Sta fondando la nave Io prendo Poche Poche polemiche qua Tanto finiremo tutti nel fondo dell'oceano Non ha molto senso Ecco qua che fa la drammatica Ci possiamo salvare Come posso sapere la combinazione? Me lo spieghi? Non lo so Devo ascoltare secondo te Come nei film che si ascolta Quando fa il TAC Allora Allora nel caso ascolto io Aspetta Dai ascolta E vediamo che succede Vai Senti il TAC No no Senti il TAC C'è solo un po' di vento E adesso? Neanche E adesso? Neanche Indovinate chi ha salvato la situazione Ascolta Era pagatissimo Hai avuto solo fortuna Ma che fortuna Senti grazie Ho mal di testa Da quanto sono dovuto rimanere col dito fermo Ma stai zitto Ti faccio esplodere col pensiero Oh no Stiamo scappando Ah Questo è il momento peggiore Li devi lanciare via? No Penso che dobbiamo fare la cosa tipo donne e bambini Giusto? Ah ok Prima le donne e i bambini Si fa così E invece il capitano per ultimo Va bene Lo so già Ok Questo secondo te E' un uomo vestito da donna? E' un uomo Sì sì Non ci cascare Non ci cascare Ma le sembra che in una situazione del genere Devi imbrogliare Cioè questa è una tragedia Anche l'ultimo un uomo eh Oh mio dio Aveva i baffetti Ma anche questo bambino ha la barba Secondo te questi bambini Sì non prenderli Non prenderli Per sicurezza No dai sei sicuro? Sì sono fintinani Vai 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 Prendiamo solo le donne Ok perfetto Vedi era giusto Non sono sicura La seconda donna E' il bambino Praticamente E' terribile sta cosa Razzista verso chi ha la barba Ok Finito Ci siamo sì Abbiamo riempito le scialuppe E noi Aiutami a calare giù la scialuppa di salataggio No No fermati Ok aspetto Però anche nel film A un certo punto si spettavano Io sto rifacendo il film Dai Nessuno l'ha capito Vai Eh sì Accadevano tutti in acqua Vai Come dovevo fare? Devi girare piano piano Giro 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 No è impossibile Ora vi dimostro che Steph era migliore Ma dimmi tu Per far giocare a Ferenichi Ma guardate Che se no scarsa Piano 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 Acceleri Quando fa così Acceleri 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 E dimmi che è finito però Ecco Andata Vai E chi ce l'ha fatta Ferenichi Buttati a pesce sulla scialuppa Io non tradisco Non traduco Non tradisco La fiducia dei consolini Vai Ok Adesso che facciamo? SOS SOS Thinking fast Tenete duro No vi prego Grappati alla panchina No non fatemi rimanere qua Vi prego Era davvero grapparsi Vi prego Devi cliccare altro Devi cliccare altro Stai attenta Che cosa? No devi cliccare Tutto il tempo La stessa panchina Mi hai fatto morire Eh no in realtà E' morta adesso là Ma si viva Ah no è così? Sì Credo Siamo sott'acqua? No Oh mio dio Cos'è sta cosa? Ok Ah dobbiamo trovare La combinazione casaccio Che dici? Sì Secondo me se fa verde Un solo pallino Ti devi ricordare quel numero Opla Io ancora non l'ho capito Ce l'hai fatto totalmente a caso Io ancora non capito Vedi No andiamo Chi è assistente Gioca meglio È così che funziona Allora Non è così Cosa sta succedendo adesso? Dobbiamo salvare la nave Forse posso chiamare aiuto Ah ok Provo a usare quella cosa che sta lì Un po' più in alto Ma lo vedi che qua c'è un alfabeto di codice mors Sì Tocco 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 È uno lento Uno lento e uno veloce Uno lento e uno veloce Dai che ce la facciamo È lento, veloce, lento Lento, veloce, lento Non è di quanto è difficile Veloce, veloce Veloce, veloce E adesso? Cioè cosa devo fare? Devo scrivere qualcosa lì? Ah dobbiamo scrivere le coordinate Ok Vedi che ce le abbiamo nella mappa Che abbiamo quarantenne, cinquantenne e cinquanta V E noi esattamente dove siamo? Boh No Allora Veloce, 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 lento Veloce, 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 lento Veloce Aspetta no li vedo Veloce Lento, 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 lento Lento, lento Ok Cinque veloce Uno, due, tre, quattro, cinque Ok E cinque lenti Uno, due, tre, quattro e cinque Fatto? Adesso ho capito Vai Ho capito come si sono sentiti quelli che mandavano il linguaggio a mosche Uh, veloce, veloce di spaccare la cosa d'emergenza Vai, 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 vai E che devo fare? La porta Devi aprire la porta Clicca sulle guarnizioni No Spacca Allora, spacca Togli la chiave Tira Devi togliere la chiave Eh, volevo provare Vedi Così Però scende Ah E allora No, come lo blocco? Aspetta, due dita No Sì E poi come? La terza dita Ceri Ok Ed esci C'è quindici dita Oddio Ora cammina piano piano No, no, no Aspetta Ma devo tenere il telefono secondo te? Che ne so Vai Dai, ma è lentissimo Ci metteremo una vita E poi hai il contrario, eh Eh, esatto È il contrario È quello che mi ha un po' flipato È tipo specchiato È stranissimo Sì Però ci sono Guarda che bravo che sarà Ok Vai Ok Dai, manca poco Dai, no Mancava poco Che noioso Che sei Ah, è difficilissimo Guarda quella lista C'è una lista Attaccata al muro Vedi? Ok, io mi sto facendo un trip assurdo Possiamo Ok Cosa vogliamo? Cosa ci serve? Che ne sappiamo? Allora, di certo non ci serviranno asciugamani Io andrei di 88886 E che cos'era l'8886? Gli attrezzi Ok Prova a spaccarla Questa Ok È che ci facciamo? No No, non va bene Ok Allora, fammi rivedere la lista, scusami Towels cos'è? Non sarà flotation device Cosa serve? Non lo so Eh, però non si vede Eh, esatto È uno 0 E vedi, è quello per forza Dai, è il più nascosto Sì, allora Con lo 0 abbiamo 0768 0178 Allora, 0778 lo vedo già E c'è 0768 mi hai detto che c'è Quindi 0718 C'è 0718 07 Secondo me è 0718 Prova? Yes Ottimo No, vedi, erano le cose più utili Ok, adesso Schiva le scatole Come? Ah, oddio Vabbè Ma siamo pazzi? Ma perché ci stanno cadendo scatole? È il migliore escape mai fatto, eh Eh, vabbè, dai Non per niente te lo fanno pure pagare È davvero difficilissimo Aiuto E stai muovendo anche la testa Per accompagnare Certo Altrimenti sbaglio Ok Ok Allora, il giubbino penso che ce lo dobbiamo mettere Ora che abbiamo Oh mio Dio Stiamo affondando Adesso Cosa vuol dire? No Non funziona Io ci ho provato Ok, siamo annegati Vedi che avevo ragione Leggi Ho bisogno di soffiare nel dispositivo O soffiare lo schermo Per gonfiare il salvagente O sfiorare lo schermo Quindi vedi Lo potevi fare anche a mano Non lo prende però Ste cose le soffiare se non funzionano Vi soffio la faccia Vi soffio Boh Ne avrei già gonfiato 15 Penso che ci stiamo gonfiando il giubbino di salvagente Qualcosa del genere Sì, ecco, ecco, ecco Strofina bene, Steph Occhio a non farlo esplodere Ok L'unica cosa è che ti devi allacciare bene E non te l'allacci Aspetta Ah, stiamo nuotando Vai Vai Sì, ma non hai capito quanto è scomodo È faticosissima sto gioco Nuota Aiutami Aggiungi la superplice Riprenditi il giubbino Ce l'ho fatta Ce l'abbiamo fatta? Sì E adesso c'è il Titanic che crolla No, barchetta Che poi il salvagente è grande quanto la barca Esatto E si è spezzata in tempo record Sembra un giocattolo E vabbè, dai È triste che sia affondato Non mi sembra giusto scherzare su queste cose Quindi Fa così freddo Un momento di silenzio Puntini, puntini Esatto, per questo Aspetta Stiamo murendo ghiacciati Ok Ci stiamo riscaldando così Sì Riscaldati Devo continuare Riscaldati Eh certo, se no moriamo assiderati Sì, ma sta prendendo fuoco il mio dito strofinando, eh Cosa devo fare? Secondo me devi tipo fischiare Hai la pistola Lancia un razzo Per dire sono qua Ah Aspetta che ci sono le nuvole Quindi no, non lo vedrebbero Sì, ma nemmeno te devo anche strofinare, capito? Esatto Adesso, adesso Vai in alto e lo lanci Così? E suppongo di sì Non ci... Sì, ecco, gli sta arrivando Quindi ci hanno visto Dai, dannata nebbia Ok Ce l'ho fatta Yes Alleluia Ok Allora, aspetta che sistemo la coperta della signora Eh, mi sembra giusto Non lo puoi fare? No SOS Allora, era Veloce, veloce, veloce Lento, veloce No, vedi che stai sbagliando Veloce, veloce, veloce No Lento Allora, veloce, veloce, veloce Lento 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 Veloce, veloce, veloce Cioè, com'hai fatta a ricordartelo? Com'hai fatto? Cioè, non ce l'avrei mai fatta Avrei finito il gioco qua Assolutamente Grazie, amico Damiana, ma no, sei sopravvissuto Oh, grazie Grazie Ce l'abbiamo fatta? Sì Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Siamo sopravvissuti al Titanic Che tristezza Ma che cosa? Mi metti un sacco di tristezza a me questa storia Quindi mi sto godendo il momento di tristezza Abbiamo vinto Ma devi essere felice Eh, ma sono triste Perché l'abbiamo avuto i soccorsi È arrivato a super in ritardo Ok Quindi sono morte un sacco di persone Sono tristezza Ma questa qua è la storia modificata Dove Steph e Ferinich Hanno fatto il linguaggio Morse Grazie di Dio E sono arrivati in tempo E hanno salvato tutti No, ma non lo sai come ha funzionato? C'erano Allora, te lo dico velocemente Loro hanno mandato lo stesso Il messaggio in Morse Però la prima nave Che era la più vicina Ha pensato che fosse uno scherzo Invece ha risposto alla seconda Che era la più lontana E ci ha messo praticamente Tutta la notte ad arrivare Quindi ce l'avevano fatta Anche loro Ma è stata colpa della nave Che tristezza Buona questa caramella Però abbiamo vinto Ti piace tutta? Molto Beh, scusa È anche giusto Che se tu giochi Escape the Titanic Che devi fare un po' di raccontare la storia No, non ce l'ha bisogno Se i consolini magari non hanno ancora visto il film Adesso lo sanno Le l'hai spoilerato Comunque Ci fermiamo così per questo video È finita questa mini mini serie da tre episodi È stato davvero carino questo gioco Uno degli Escape migliori che abbiamo fatto secondo me Sì, assolutamente Meritava di avere i due euro che le abbiamo dato Quindi sono felice di averle ridato Speriamo che vi sia piaciuto Nel caso commenti, like, bla 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 E fateci sapere se volete altri Escape Perché nel caso ne cerchiamo un altro post Sperando di trovare qualcosa altro simpatico Nel caso consigliatecene voi Nei commenti Se ne avete trovato di fighi Che non abbiamo ancora fatto Beh, ragazzi Se è così Se è giocato Se è giocato Se è giocato E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao